...pratica, quello che avete visto, quindi tutti in pista con i pizzicati, con Silvia, Silvia, l'Aveneco e Fabio e soprattutto sono obbligate le spose e le festeggiate a partecipare al palco è un governo di manzette, lasciate parlare, lasciate parlare, lasciate parlare, a tutte le valutette, lasciate parlare ... E' un'altra giusta che da spiegare C'è da letto Che ne vedi che pietro Ma la giuda da giù sarà La scuola è rossa, stanno a tenda Sul tutto patto, nel bene di gestione Che da una rossa, non mi da retina Che ne vedi, che ne vedi Che ne vedi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.